buongiorno benvenuti al mio canale già da qualche giorno è disponibile l'aggiornamento a quella che è chiamata la versione 22 h2 di windows 11 come si può procedere a installare questa versione si può fare direttamente si aprono le impostazioni andando su windows più ii che sono le impostazioni si va su windows update e quindi si guarda se ci sono degli aggiornamenti disponibili in questo caso sono degli aggiornamenti disponibili per il computer magari io lo installo però probabilmente in questo caso voi vedrete che è disponibile un aggiornamento a windows 11 denominato 22 h2 nel momento in cui è disponibile aggiornate che vi ritroverete dopo un po con questa nuova versione di windows potete anche forzare l'aggiornamento anche se non ve lo consiglio perché è bene aggiornare sempre quando è tutto pronto perché poi che si aggiorna in maniera forzata può darsi che poi degli aggiornamenti tardino ad arrivare comunque se volete aggiornare in maniera forzata aprite questa pagina la pagina dell'aggiornamento di windows di cui metterò l'indirizzo come vedete download di windows 11 versione corrente aggiornamento di windows 11 alla versione 2022 22 h2 appunto scaricate qua e poi verrà scaricato un'applicazione su cui farete un doppio clic e l'assistente per l'installazione e vi installerà questa nuova versione 22 h2 detto questo quali sono le novità di questa nuova versione sono parecchi io cercherò di sintetizzarle diciamo cominciamo con quelle più semplici una interessante è quella delle notifiche qui basta cliccare qua in basso sulla destra si vedono le notifiche qui si possono direttamente aumentare diminuire la luminosità dello schermo oppure anche la il volume lo si può fare anche con la rotellina per esempio se io punto qua la luminosità e giro con la rotellina in avanti o indietro vedete che posso aumentare o diminuire la luminosità e con questo sistema stesso discorso lo posso fare anche con il volume una cosa interessante altra cosa se qui è attivato il bluetooth quando è disattivato adesso è attivato il momento qui è attivato il bluetooth non importerà più andare sulle impostazioni per connetterci perché basterà cliccare su questa ricetta ecco qua e qui ci sono tutti i dispositivi associati e quindi per accoppiarli per diciamo di connetterci basterà cliccarci sopra per poterci connettere ovviamente io ho questi dispositivi uno è naturalmente altri dispositivi associati con il computer terza cosa più importante che ha diverse novità è quella di di esplora file questo esplora file un caso di tutto qua in alto come vedete c'è home e one drive one drive è stato posizionato in alto insieme a home si può naturalmente vedere tutte le cartelle di one drive e se si va sulla home si vede che ci sono i preferiti cosa sono questi preferiti se io per esempio sulle immagini seleziono un'immagine per esempio destro del mouse vado qua aggiunge a preferiti poi vado su home e nei preferiti posso visualizzare questa immagine che posso magari aprire con doppio clic ovviamente questa è un immagine ma poteva essere un file di qualsiasi altra natura quindi l'aggiunta dei preferiti è la cosa una delle cose più interessanti è rimasto anche l'accesso rapido scusate queste cartelle che possono essere pinnate in in accesso rapido la cosa però più interessante è quella delle schede come vedete ci sono adesso ci sono più schede in esplora file ma si andrà sul più e si aggiungerà una nuova scheda che cosa servono queste schede per esempio se io voglio copiare o spostare una immagine da una posizione a un'altra o un'immagine un file qualsiasi altra cosa per esempio io vado seleziono questa immagine qua la voglio spostare su download o su un altro percorso io vado sul più seleziono per esempio la cartella download l'immagine la posso direttamente spostare vedete qua sulla sulla nuova scheda oppure posso tenere premuto ctrl e la copierò vedete se io lascio ctrl la sposto se invece copio ctrl la copio e verrà copiato in download questa nuova immagine quindi è un modo molto più semplice per fare copia e incolla tra varie cartelle di esplora file poi un'altra cosa interessante sono state inserite queste tre opzioni imposta come sfondo questo magari lo eviterebbe che è meglio realizzare le impostazioni però si può selezionare un'immagine per esempio e ruotarla a sinistra vedete oppure ruotarla ancora a sinistra oppure ruotarla a destra poi ruotarla a sinistra probabilmente avrete visto altra cosa sempre su esplora file come vedete rispetto a windows 10 sono ritornate le antifrima dei file qui per esempio c'è una cartella e si vede il tipo di file che contiene questa cartella come vedete si vede un file presente nella cartella stessa io posso aprire questa cartella e come vedete era uno dei file presenti in questa cartella così come se io faccio un doppio clic qua come vedete qui si vede il tipo di file che è presente in questa cartella quindi c'è l'anteprima nelle cartelle si si vede l'anteprima dei file poi sono delle novità nella gestione attività la gestione attività si apre con la combinazione della tastiera ctrl alt canc che però magari adesso non vi posso far vedere perché se no si oscurerebbe lo schermo vi posso però capirla in un altro modo vado su impostazioni digito gestione attività ecco qua visualizza l'utilizzo delle risorse del sistema in gestione attività quindi lo apro questa è la nuova gestione attività come vedete è molto diversa perché adesso qui ma prima se vi ricordate c'erano delle schede orizzontali invece adesso ci sono dei processi delle colonne verticali vedete prestazioni questi sono i processi queste sono le prestazioni qui ci sono cronologie applicazioni insomma sono da orizzontali adesso sono passati in verticale è diciamo così una nuova grafica però il sistema è sempre lo stesso chiaramente si può per esempio selezionare un processo e poi andare sul termine attività qui che è in alto a destra invece prima era in basso a sinistra poi ci sono altre cose interessanti per esempio se noi passiamo il mouse qua su si visualizza come vedete quelli che si chiamano snap layout vado a dire tutte le opzioni per organizzare le schede si possono frascinare le schede per visualizzarne quattro schede insieme con questa layout oppure tre schede insieme con questo layout per migliorare questa funzionalità è stato introdotto un nuovo sistema si digita win più z cioè windows più z ecco fatto e queste schede vengono tutte nominate quindi se io voglio per esempio inserire questa scheda nella 1 vado in più z più 1 e inserisco nella 1 poi apri magari un'altra scheda e la inserisco nella 2 e così via ulteriori novità sono anche nelle impostazioni adesso si possono disinstallare gli aggiornamenti si va su windows update cronologia degli aggiornamenti quindi si vedono tutti gli aggiornamenti come vedete l'ultimo aggiornamento è stato proprio la versione 22h2 e si possono disinstallare gli aggiornamenti per disinstallare gli aggiornamenti si va su app impostazioni avanzate per le app e come vedete disinstalla gli aggiornamenti ecco fatto questi sono stati gli aggiornamenti trovati se uno magari dopo aver effettuato un aggiornamento il computer non gli funziona uno può disinstallare tutti gli ultimi aggiornamenti che ha applicato prima per disinstallare il programma dovevamo andare sul pannello di controllo adesso invece lo si può fare direttamente dalle impostazioni si va sempre su app si va su app installate e qui per disinstallare una app per esempio io ci clicco sopra qui sul menu e vado su disinstalla e disinstalla questa app direttamente senza dover andare nel pannello di controllo altra novità è l'aspetto del menu start io clicco su start e si vede il menu questo è il menu su Android da questa prete che se si trascina una icona su un'altra icona si crea un gruppo gruppo di icone per esempio qui io posso creare un gruppo di queste icone che sono tutte Office della Microsoft posso quindi trascinare Excel su Word e poi trascinare PowerPoint su Word ecco quindi che ho creato un gruppo quindi io posso raggruppare le applicazioni per esempio posso unire anche Microsoft Store a questa cartella e quindi creo una cartella ci clicco sopra e c'è questa cartella quindi ho creato una cartella delle applicazioni Microsoft poi solamente io le posso togliere basta fare così si apre la cartella e si tolgono dal gruppo semplicemente come abbiamo fatto prima cioè con il drag and drop un'altra cosa interessante è che si possono affidare delle nuove istanze di app per esempio se io per esempio affro Chrome per affidare un'altra istanza di Chrome io dovevo cliccare sopra con il destro del mouse e andare su Google Chrome qua per affidare un'altra istanza così e affidare un'altra istanza adesso si può fare più semplicemente io tengo premuto maiuscolo intacco maiuscolo clicco su Chrome e apro un'altra istanza di Chrome questo può capitare anche con altre applicazioni per esempio io apro che so Shotcut dopo che ho aperto Shotcut io tengo premuto maiuscolo clicco ancora su Shotcut e aprirò un'altra istanza di Shotcut che attualmente vedete sono due istanze di Shotcut quindi si possono affidare più istanze di uno stesso programma sono state poi aggiunte delle nuove app preinstallate andiamo qui su app app installate è stata aggiunta l'applicazione ClipChamp adesso è preinstallata prima dovevamo installarla dal Microsoft Store invece è preinstallata se la trovo eccola qua ClipChamp vedete è preinstallata probabilmente uno la può anche desinstallare se vuole c'è anche l'opzione avanzare vedete se ci sono le impostazioni dunque mi pare di aver detto tutto quello che almeno che ho visto di novità in questo nuovo aggiornamento di Windows 11 denominato 22H2 se ce ne sono altre lo vedremo la prossima volta vedremo anche come si fa a poi eliminare lo spazio occupato da questo aggiornamento perché se io apro Explorer File vado su questo PC come vedete qua mi è rimasto veramente poco nella unità C di spazio perché questo aggiornamento ha preso parecchio spazio ma si può eliminare l'aggiornamento a parte che Windows lo eliminerebbe automaticamente credo dopo un mese ma lo si può fare subito per avere sempre più spazio nella unità C e quindi per lasciarla un po' più performante lo vedremo la prossima volta come si fa a liberare spazio appunto dall'aggiornamento sull'unità C questo è veramente tutto alla prossima volta è un'ottima volta come si fa a liberare spazio